ben tornati a tutti e benvenuti amici carissime questa è la terza puntata del ciclo di catechesi danno un senso alla vita di cielo, un percorso di guarigione, conversione, liberazione, santificazione, divinizzazione possiamo chiamarlo così come suo sottotitolo siamo giunti alla terza puntata, nella seconda ho cercato di presentare un quadro che possa aiutare le persone che desiderano interagire con questo itinerario perché questo è un itinerario interattivo non per interagire durante la diretta in cui va questa catechesi anche se qua sarà disponibile come sempre attraverso le mie piattaforme multimediali quindi non per interagire in questo senso ma per interagire in senso esistenziale quindi sono suggestioni, spunti, suggerimenti, strade, piste su cui si può e soprattutto se si vuole fare un regalo si deve lavorare sopra lavorarci sopra per permettere a Dio per chi ci crede di lavorarci sopra e di restituirci una vita davvero degna di essere vissuto, una vita bella io seguirò perché ho presentato nella seconda puntata quello schema certamente per lavorarci ma anche per aiutarci e quindi per entrare nel dettaglio diciamo che in linea di massima seguirò quello schema quindi sappiamo che quello schema la prima area da indagare è il vissuto a livello familiare e a livello di ambienti cioè prendere coscienza che quello che abbiamo vissuto anche se appartiene al passato è passato in quanto ai fatti ma è più che mai presente in quanto agli effetti perché gli effetti del passato e soprattutto delle ferite ricevute nel passato se non sono curate permangono nel presente tra l'altro a quanto pare con una dinamica che l'incedere del tempo anziché attutire certe ferite le amplifica quindi più tempo passa e peggio è, più male si sta se non si interviene ora in questa prima parte dell'itinerario per dovere di correttezza insomma oltre alle fonti diciamo così biblico-teologiche diciamo generali che appartengono si spera alla mia diciamo conoscenza e competenza dei sacerdoti speriamo farò riferimento generale e a volte anche diretto ed esplicito forse già da questa sera ai testi di Don Giuseppe Sovernico la serie che poi ha dato origine a chi sono io per poter amare ma un testo anche del carissimo eccellentissimo e bravissimo sacerdote nonché spero almeno da parte mia mio vecchio amico e maestro per certi aspetti Don Fabio Fiorini Don Fabio scusate Rosini Don Fabio Fiorini buonanima era un sacerdote della mia diocesi lo dico insomma per che morì ucciso in terra di missione tra l'altro quindi per questo mi è capitato questo piccolo lapsus istantaneo però certamente vale la pena ricordare anche questo caro confratello che ha versato il sangue in occasione dell'esercizio del suo compito di missionario e di medico quale era Don Fabio Rosini è una persona veramente straordinaria un credente doc uno che ci crede sul serio al Vangelo e a Gesù e che ha avuto anche un itinerario una maturazione diciamo così presbiterale e umana davvero impressionante a mio avviso lo conosco da tanti anni insomma ha scritto dei libri molto molto belli uno che è molto vicino al tema che noi stiamo affrontando si chiama L'arte di guarire L'emorroissa e il sentiero della vita sana io non voglio fare pubblicità a Don Fabio che non ha bisogno certamente della mia pubblicità però questo è un testo a mio avviso molto molto bello io farò qualche piccolo accenno che evidentemente non posso rubare il lavoro altrui e non sarebbe neanche possibile insomma fare una lettura sistematica ci vorrebbero 50 catechesi forse 60 soltanto per leggere e commentare il libro forse anche 100 insomma quindi qualche piccolo spunto però lo prenderò è un libro molto bello da leggere perché fa comprendere come Gesù è medico dei corti chiaramente il libro è un commento all'episodio della guarigione dell'emorroissa un commento enorme ma anche delle anime perché dietro la problematica apparentemente fisica dell'emorroissa dell'emorroissa c'è tutta quanta un mondo diciamo così espresso da quella problematica che per l'emorroissa era reale l'emorragia la perdita di sangue cioè la perdita di vita noi perdiamo sangue quando siamo feriti già questa sera cominceremo ad affrontare il tema delle ferite che ci portiamo dietro che è un tema delicatissimo evidentemente io sono un sacerdote questo è un ciclo di catechesi che vorrebbe aiutare diciamo così non in senso evidentemente tecnico quindi io non faccio questo lavoro ma vorrebbe sollecitare quella che qualcuno chiama diciamo così la grande terapia che è la cristoterapia cioè il presupposto di questo itinerario è che noi avremmo fatto veramente un grande incontro una grande svolta di vita quando ci affideremo veramente come l'emorroissa che tocca il mantello di Gesù al Signore con la fede che Lui ci può guarire c'è un bellissimo canto magari facciamo l'introduzione della diretta della prossima puntata che si dice Gesù, Gesù, vengo a te per toccare solo il lembo del mantello e poi Gesù, Gesù guarisci ecco questo è un bellissimo canto ma questa è una realtà perché come ho accennato non mi ricordo se nella precedente o nella prima puntata esistono bravi psicologi e bravi psicoterapeuti esistono come in tutti gli ambiti professionali a cui molto bravi tuttavia io ho avuto modo insomma di sapere, di venire a conoscenza che alcuni onestamente riconoscono un limite quasi intrinseco nel senso che in campo diagnostico le cose le sanno fare molto bene sanno aiutare molto le persone a individuare bene la propria situazione in campo terapeutico sì, certamente ci sono dei percorsi, degli itinerari ma sono consapevoli che si arriva fino a un certo punto perché se tu sei profondamente ferito c'è bisogno di qualcuno che ti medichi che ti tocchi, che ti guarisca e questa è cosa che più di qualche volta esula dalle possibilità umane e chi è che può fare questo? è il Signore io tante volte ho detto nella mia vita sacerdotale insomma che anche ciò che ha mosso me a suo tempo a rispondere alla chiamata del Signore fu la scoperta che la fede divina e cattolica non è semplicemente un compiere qualche gestore religioso quindi andare a Messa che sono tutte e tante cose che certamente fanno parte della vita di fede andare a qualche processione fare qualche preghiera fare qualche fioretto fare qualche opera buona fare qualche lemosina questi sono tutti quanti atti religiosi che hanno senso dentro un contesto la fede è l'incontro con una persona che ti cambia la vita ma non ti cambia non è questa qui una frase retorica d'accordo con una frase fatta dobbiamo colpire le persone dobbiamo farli avvicinare dobbiamo dirgli che il Signore ci cambia la vita cioè quella classica frase fatta che tanto lo dicono tutti ma non ci crede nessuno no? è proprio così io ne sono testimone quindi l'ho visto non soltanto nella mia vicenda personale ma nella vicenda di persone a me particolarmente care quindi ho visto certamente con gli occhi illuminati dalla fede non si tratta di fenomeni sensibili la grazia di Dio la potenza del Signore risorto in opera in atto è quello che può fare quello che può realizzare ecco quindi il senso di questo cammino è aiutare le persone a entrare in contatto con il medico d'accordo? io non sono nulla e nessuno se tutto questo percorso che faremo aiuterà qualcuno a credere che esiste un medico e a farsi guarire benissimo se questo non succederà non è andata a buon fine insomma questa operazione allora abbiamo visto nella puntata precedente il primo quadro che cosa ho ricevuto potremmo anche dire che cosa ho subito allora io ricordo che il Cardinal Petrocchi che è stato il mio primo vescovo qui a Latina che era laureato tra le altre lauree che ha in psicologia era psicoterapeuta era psicoterapeuta fece anche un lavoro in diocesi sono cose pubbliche quindi questo le posso dire anche perché sono cose che vanno al suo giusto onore accompagnava le coppie in crisi ha lavorato con i ragazzi quindi ha esercitato ha conservato per tanti anni proprio addirittura la tessera diciamo dell'iscrizione all'ordine quindi le riviste lui ci raccontava sempre hanno i giovani seminaristi i giovani preti che è scientificamente dimostrato ovviamente nell'ambito delle scienze umane quindi io riferisco cose ascoltate da una persona che ha un'elevata competenza in merito che gli eventi traumatici cominciano già nel grembo materno cioè già è complicato per noi andare a ricostruire i traumi consapevoli della nostra esistenza ma ce ne sono alcuni adesso questo sta diventando anche patrimonio comune per esempio se i genitori la mamma strilla urla insieme a fianco al papà dentro casa e è incinta il feto reagisce a questa cosa e non gli fa bene sentire che la mamma urla o che il marito gli grida addosso quindi lui ci diceva questa cosa la prima grande finestra che ci deve essere chiara noi abbiamo subito dei traumi questi traumi ci condizionano quasi sempre a livello inconsapevole quasi sempre ed iniziano alcuni di essi a livello pre-ancestrale pre-arcaico è impossibile arrivare ad essi eppure ci sono primo punto secondo il nostro io il nostro io proprio la nostra come dire personalità si fonda su due assi portanti la fonte è sempre la stessa cerchiamo di citarle tutte 1 quanto sono amato e quanto valgo o meglio quanto sono stimato cioè l'amore o il non amore o il contrario dell'amore quindi l'odio o il disprezzo o gli atteggiamenti contrari all'amore e la stima o la disistima che ho ricevuto sono quei due assi su cui la mia personalità si regge o quei due binari su cui la mia vita corre cammina e cammina dritta se ci sono se i binari deragliano il treno della mia esistenza va in tilt quali sono le figure istituzionalmente e a questo si può anche chiamare in causa la creazione e l'ordine voluto da dio stesso incaricate di dare solidità e strutturazione a questi due assi chi è il polo dell'amore è la donna è la mamma la mamma è il linguaggio dell'amore per noi quando siamo piccini chi è il linguaggio della stima il linguaggio della gratificazione il linguaggio della la stima la gratificazione fondano anche il nostro senso di quanto siamo sicuri di noi stessi chi ci dà sicurezza se non il papà l'uomo allora la nostra personalità è in larga parte condizionata dal nostro vissuto tu puoi non esserne cosciente quasi nessuno ne è cosciente puoi scegliere di non crederci puoi dire ma queste sono tutte stupidaggini io me ne infischio per carità cioè si è sempre liberi di interfacciarsi con la realtà come uno meglio crede in base alle proprie libere scelte no però purtroppo ora teniamo presente che noi purtroppo dal 1970 in poi cioè da quando purtroppo anche se dicono che lo Stato è laico quindi questo non dovrebbe riguardarci ma da quando purtroppo è stato possibile come dire anche legalmente procedere alla distruzione di una famiglia è chiaro che queste fenomenologie quindi tutte quante le situazioni problematiche dipendenti da difficoltà di questo genere si sono enormemente moltiplicate amplificate non ci vuole non ci vuole insomma tanto per crederlo per constatarlo più che crederlo che tipi di ferite possiamo aver ricevute dai contesti in cui siamo vissuti fondamentalmente fondamentalmente tre ferite di tipo psichico fisico o morale per esempio fisiche percosse percosse gratuite violenze sessuali sono le cose più grandi da parte di familiari da parte di parenti da parte di amici cioè subire violenza con tutto ciò che esso significa o essere sessualmente violati cioè sono delle cose atroci bruttissime che lasciano il segno e che hanno bisogno di essere guarite da qualcuno per forza le ferite psichiche per esempio essere vissuti in un contesto di litigi tra genitori o disamore in famiglia io amo sempre raccontare una cosa che ha raccontato Papa Francesco che a me ha colpito molto e penso che sia universalmente condivisibile lui diceva sempre che uno dei giorni più belli della sua vita ha raccontato era quando ha visto scambiarsi un bacio affettuoso un bacio affettuoso ma anche un bacio d'amore tra i suoi genitori perché se un figlio vede che i genitori si amano ne riceve una montagna di benessere di vita di serenità di serenità di tranquillità se un povero bambino cresce questo senza voler colpopolizzare nessuno perché molte volte purtroppo specialmente oggi i genitori si trovano a costruire una famiglia ma si portano dietro ciascuno di essi una montagna di cose di questo genere completamente irrisolte quindi non sono assolutamente in grado di poter fare cioè di potersi amare l'un l'altro totalmente né tantomeno di dimenticarsi per il bene del figlio non ce la fanno d'accordo non hanno l'attrezzatura non ci sta più oggi questa qui purtroppo però se questi poverini non hanno l'attrezzatura e hanno messo al mondo un figlio e il figlio cresce in quell'ambiente perché il figlio starà male sicuro non c'è possibilità d'accordo non c'è possibilità altre ferite psichiche terribili la percezione netta di essere rifiutati di non essere voluti di essere di troppo specialmente in famiglia oppure di essere deposposti a qualche fratello a qualche sorella di essere il calimero della situazione la pecora nera tutte le attenzioni tutti quanti l'amore su e a me niente oppure angherie subite da parte dei fratelli oppure vessazioni ricatti vari questi questi magari sono figli di un'educazione oltremodo rigida credo oggi non molto diffusa ma si sa mai insomma almeno da nostre parti in occidente si sa mai insomma non precipitiamo giudizi che non siamo in grado almeno io insomma di fare no poi altri traumi psichici perdita precoce per esempio di un familiare ti muore la mamma o il papà in tenerissima età questo è un problema di un parente magari un nonno o una nonna a cui si è tanto affezionato di un amico o comunque altri eventi traumatici qui ce ne possiamo mettere quanti ne vogliamo poi le violenze morali cioè che in genere hanno ferite morali violenze verbali non è bello crescere un ambiente dove ci si manca di rispetto sistematicamente ci si prende a parolacce si tratta una persona come una pezza da piede si aggredisce si insulta si giudica ci si rinfaccia le cose sono cose orride queste qui sono cose bruttissime poi i disprezzi quando veniamo disprezzati adesso sentiremo Don Fabio che bella d'assegna che ci presenta nel suo libro o i rimproveri gratuiti o completamente infondati il rimprovero il rimprovero è una cosa che fa male purtroppo il rimprovero vedremo specialmente il rimprovero diretto è cosa a cui bisogna ricorrere quando è proprio indispensabile ma proprio come ultima spiaggia non è mai una cosa buona procedere per rimproveri un'educazione eccessivamente rigida esistono anche oggi o cosa apparentemente oggi più frequente troppo permissiva giochi o esperienze specialmente sessuali precoci cattivi esempi cattive compagnie ingiustizie scolastiche questi come sempre come abbiamo già visto anche la volta scorsa sono esemplificazioni chiaro che il panorama è potenzialmente indefinito speriamo non infinito ma certamente aperto a molte possibilità molte varianti a molte variabili quali sono in linea di massima diciamo così no in linea di massima in un ambito molto molto generale come prima battuta le conseguenze principali di questi fenomeni la mancanza di amore ricevuto e la mancanza di stima ricevuta cioè tutte quante quelle tipologie insomma che poi se uno va a vedere fondamentalmente veicolano questi messaggi io non ti amo e tu non vari niente vedremo come quando ci incontri il Signore la prima cosa che ti dice due te ne dice io ti amo e tu sei importantissimo io penso a te come se non avessi nient'altro da fare e tu sei importante come se tutto l'universo ci fossero tanto tu se tu hai incontrato Dio prendi percezione di questo se non hai preso percezione di questo cioè se tu nel tuo relazionarti con Dio non senti non vivi non sei convinto di questo ancora l'incontro con l'abbraccio di Dio non c'è stato o non c'è stato in forma piena attenzione in forma compiuta quindi non è che uno è ateo per notarlo dal Signore no ecco allora la mancanza di amore ricevuto generalmente dall'uomo una personalità o fragile o inconsistente e quindi che cosa succede nella vita che c'entra questo con con la fede ma come che c'entra uno può fare tante cose buone può andare a vivere tante messe può fare tanti rosari può fare tanto volontariato può fare bene al prossimo può fare tante lemosine può fare tanti servizi in parrocchia tutto quello che volete ma se c'ha questo dentro la sua vita non è bella non avverte tutti quanti i benefici che derivano dalla vita di grazia dal vivere in comune con il Signore perché queste cose non guariscono facendo catechismo in parrocchia attenzione fatelo io sono parroco magari fossero tutti catechisti e volesse il Signore dare a tutti il suo spirito capite bene il senso di quello che sto dicendo allora una personalità fragile e inconsistente che cosa farà fa di tutto pur di trovare e ottenere amore tutti tutto spesso e volentieri a volte soprattutto nella sfera sessuale ma anche nel rapporto tra lice per un briciolo d'amore è disposto a vendersi la strada di casa se vogliamo usare proprio una quindi te lo pago a qualunque prezzo quante ragazzine purtroppo precocemente perdono la sacra virginità per questo per un briciolo d'amore per conservarsi quell'illusione di quel briciolo d'amore che finalmente gli sembra di aver trovato il cui prezzo è se mi ami dimostra e se non me lo dimostri io ti lascio detto proprio il messaggio proprio e nel rapporto tra amici vale quella stessa cosa tutto questo in genera una serie di atteggiamenti a volte neurotici a volte psicotici di vario generi caratterizzare attenzione dal desiderio inconscio di attirare l'attenzione io spero che lo spirito santo veramente parli nei cuori di chi ascolta queste piccole cose che sono delle sciocchezze queste qui sono proprio dette a livello come dire elementare divulgativo sono dei piccoli input ripeto non ho però e ci dia anche la possibilità di guardare i nostri simili con occhi nuovi quelle persone odiose quelle persone che si mettono sempre in mezzo che devono sempre dire a loro quelle persone che a volte sono stravaganti sono degli atteggiamenti singolari che vogliono a tutti i costi farsi notare uno gli dice ma questo chi è Roma che vuole che risultano antipaticissimi poi cioè quei poveracci che campano così loro non lo sanno ma fanno tutte quante queste cose per essere un pochino amati e più fanno questo e più ottengono esattamente l'effetto contrario perché più fanno così e più saranno ancora di più non amati ma hanno questo diciamo così atteggiamento inconscio che è il desiderio di attirare l'attenzione perché vogliono qualcuno che voglia bene seconda area la mancanza di stima ricevuta qui stavolta non c'è una personalità inconsistente ma c'è una persona che si disprezza profondamente si disprezza ma non lo ammetterà mai e scarica su tutto e su tutti una pesantissima rabbia avete visto quelle persone che stanno sempre a parlare male di tutto e di tutti vomitano veleno in continuazione sembra che non sanno fare altro bene sappiate che chi fa così si detesta si ritiene una nullità assoluta si ritiene l'essere più schifoso del mondo anche se quasi certamente non se lo è mai detto e non lo ha mai ammesso né a se stesso e né davanti a Dio allora manifestazioni nevrotiche per scaricare la rabbia la frustrazione o la repressione ci stanno delle fortissime e forti fortissime appunto forme e sindrome nevrotiche ci diceva Monsignor Petrocchi qual è la distinzione tra la nevrosi e la psicosi il nevrotico per esempio è una persona che è tra virgolette non in senso clinico isterico cioè una persona che si accende di ira facilissimamente si arrabbia in continuazione se tu gli fai una data e gli dici fratello mi ti arrabbi un po' troppo spesso lui ti risponde si lo so ma non ci posso fare niente invece quando una persona ha una sindrome di tipo psicotico quindi il nevrotico ha degli atteggiamenti distruttivi ma sa di averli anche se non sa come uscirne non sa come combatterli e non sa da dove vengono né da dove vengono né come si combattono lo psicotico c'ha una come dire aggravante in più una personalità di questo genere che ha delle problematiche ma non sa di averle per cui se tu preoccupi io ma quando mai casi classici di sindrome tra virgolette non in senso clinico anche qui è psicotiche le persone che a causa appunto delle mancanze di amore ricevuto quindi la fragilità eccetera eccetera sono per malose quindi scambiano per messaggi di non amore cose che sono assolutamente non in questo senso interpretano tutta male sono sempre sospettose stanno sempre a pensare che c'è tutto quanto il mondo che sta in complotto per cercare di fargli un altro po' di male per dargli un altro po' di dolore per togliergli un altro po' d'amore e quindi alla minima cosa se li sento tu glielo fai a notare e dici io ma quanto scusate quanto mai no 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 assolutamente no nessuna problematica di questo genere e se tu insisti la risposta è non mi capisci no no tu non puoi capire queste sono le le come dire le le fenomenologie quindi quello che appare a livello pratica in entrambi queste dinamiche quello che spesso appare e qui abbiamo anche testimonianze di persone adulte quello che c'è dentro la persona è una immaturità perpetua immaturità che significa incapacità di prendere decisioni impegnative quando è che una persona è matura quando una persona sa fare delle scelte e prendersene le conseguenze ci siamo meglio come mai oggi l'età non soltanto dei matrimoni ma anche nei seminari no come dire si alza diciamo così l'età di ingresso in seminario l'età dei matrimoni sempre più avanti 30 35 anche 40 anni come mai perché siccome oggi viviamo in un ambiente che è l'abito naturale dove queste dinamiche proprio trovano l'humus proprio fantastico d'accordo proprio il terreno umido dove germogliano sprombattuto è chiaro che le persone poverine sono immature pensiamo anche al discorso delle convivenze non da un punto di vista morale ma da un punto di vista anche qui fenomenologico comportamentale cosa dice una persona che va a convivere perché va a convivere perché non può fare una scelta definitiva o meglio vediamo un attimo come va se va bene forse e se no pazienza quindi devo avere come dire la possibilità della reversibilità diciamo come c'è il divorzio si però il divorzio comunque costa un sacco di soldi costa un sacco di questioni che bisogno c'è facciamo la prova da un punto di vista ripeto comportamentale questa è una spia come dire di una personalità che denota segni di immaturità prendere decisioni impegnative no ancora qualche altra conseguenza delle ferite che ci portiamo dietro queste sono spie dopo disturbi o difficoltà relazionali nei confronti di amici o con persone di altro sesso problemi più o meno grandi nei rapporti con le autorità di tutti i tipi con le autorità civili con le autorità ecclesiastiche oggi il problema del rapporto con le autorità è un problema serio molto serio anche il come si reagisce dinanzi all'autorità no specialmente quando l'autorità prende qualche provvedimento che tu non condividi e che ti tocca nell'intimo vediamo oggi in giro telegiornali social networks chiacchiere da bar cioè oggi ci si sente tranquillamente autorizzati nei confronti di qualunque autorità civile o anche religiosa dalla più piccola anche alla più grande di sparare vomitare tutto quanto il veleno possibile immaginabile una cosa fatta bene questa qui cioè adesso lasciamo perdere l'aspetto morale una cosa fatta bene che cosa denota questo il problema con l'autorità denota un'altra ferita che tu ti porti dietro come è stato il rapporto con tuo padre punto interrogativo se tu hai tutte quante queste problematiche con le autorità che tipo di rapporto c'avevi che tipo di rapporto tuo padre ha indirettamente autorizzato a farti avere con lui altra problematica l'incapacità di conseguire obiettivi sul lungo periodo io ricordo io ho fatto l'università anche civile prima di entrare in seminario la facoltà che la chiamavano degli scansa fatiche non dico quale insomma nella facoltà degli scansa fatiche ai tempi miei c'erano tantissime persone che si laureavano a 30 33 anni con 66 70 andavano al decimo fuoricorso all'undicesimo fuoricorso oppure mi ricordo non so se era questo il numero sì che su una caterva di iscritti solo il 7% arrivavano alla laurea e alcuni di questo 7% nel modo che ho detto quindi era la facoltà degli scansa fatiche figuriamoci se fosse stata la facoltà come dire le facoltà impegnative le facoltà scientifiche insomma le facoltà superfacoltà altre conseguenze i disordini nel processo di identificazione sessuale tema questo molto molto delicato lo sapete benissimo che in campo cattolico questo è un punto molto molto importante perché noi nasciamo maschio o femmine ma poi è sicuro che il maschio o la femmina crescendo si senta uomo o donna e questo sentirsi magari un maschio che si sente donna o una femmina che si sente uomo è cosa normale come oggi si vorrebbe far credere e da predico prendere atto o è qualche cosa che ha una spiegazione che dipende da un certo vissuto e che quindi in qualche modo se ne può parlare ci si può interagire punto interrogativo poi grossi problemi nei rapporti con Dio che uno si porta dietro con la fede con la chiesa io credo che siamo in tempi in cui da quello che vedo a tutti i livelli una volta c'era Cristo si chiesa no adesso non mi sembra che ci sia questo slogan in giro però c'è Cristo si chiesa pure a condizione che gliene possa in sacca e in asporta dovunque comunque se tu chiedi talmente così tante in sacca e in asporta non è no ma è come se non ci fosse d'accordo perché se tu la chiesa la consideri semplicemente alla strega di un'organizzazione umana d'accordo dove ci sono quindi c'è la gerarchia umana analoga per esempio a quella che c'è nel corpo dei carabinieri che per certi aspetti lo è analoga perché la chiesa ha un'organizzazione gerarchica d'accordo ma se tu vedi semplicemente la componente umana e basta non è questa la chiesa la chiesa ha evidentemente una componente umano visibile ma dietro la componente umano visibile opera e gioca una componente del tutto invisibile dentro anche la miseria dentro anche i limiti a volte macroscopici dell'umanità altra conseguenza possibile l'incapacità di vivere secondo un progetto globale un progetto di vita e una precisa scala di valori ecco perché la seconda parte del foglio di lavoro invita a fare queste domande ma per vivere secondo un orizzonte globale per avere un progetto di vita chiaro verso cui tu ti muovi e che verso cui cerchi di camminare una scala di valori ordinata esatta possibilmente corretta ci vuole una personalità guarita allora passo a qualche citazione a quella lettura di qualche passaggio del libro di Don Fabio Rosini ripeto per chi spesso dalla diretta si fosse collegato in ritardo l'arte di guarire le morroisse è il sentiero della vita no? allora questa povera donna sta perdendo sangue cioè nella tradizione ebraica sta perdendo la vita di che stiamo parlando? di un mondo privato intimo in questa storia si parlerà più avanti di vergogna quando dovrà manifestare ciò che è successo verrà fuori impaurita e tremante perché queste non sono cose che dice a primo incontri che c'è a morragia forse non le dici neanche alle persone che conosci bene sono le perite intime quelle dell'affermazione affettività che sono profonde sono dentro sono nascoste che forse non hai mai detto a nessuno sono quelle cose per cui uno non si sente normale proviamo a chiederci tu ti senti normale? sente di essere una donna o un uomo di serie B hai questa percezione di te stesso? è un pensiero è un pensiero inconfessato attenzione che noi ci stiamo muovendo sia chiara una cosa in questo percorso questo è un percorso che ci fa entrare dentro noi stessi queste cose non sono cose di cui siamo immediatamente consapevoli dobbiamo entrare dentro un mondo di cui non siamo coscienti dobbiamo fare un viaggio attenzione ho già detto l'altra scorsa questo è un viaggio che può riservare delle sorprese molto dolorose ma è un dolore finalizzato alla guarigione come se uno facesse un intervento chirurgico dicevo parlando io da poco ho fatto un bellissimo una bellissima esperienza negli esercizi spirituali momenti in cui uno ripercorre anche la vita gli snodi io mi rendo perfettamente conto per fare un cammino serio di guarigione di conversione di riconciliazione ci vuole coraggio ci vuole coraggio perché devi passare attraverso degli snodi che sono snodi dolorosi l'abbiamo visto nelle puntate precedenti siccome non ci abbiamo voglia di affrontare questa sofferenza svicoliamo se anche uno comincia appena vede che si che arriva svicola e così non ne esci mai se uno vuole guarire deve fare la terapia deve fare la terapia deve sottoporsi a intervento chirurgico forse e poi vado a fare la diabilitazione forse è dolorosa forse è dolorosa quindi è un pensiero inconfessato riprendo la citazione che diventa un intimo disprezzo di sé abbiamo già visto per le proprie incompletezze spesso immaginarie sono successe cose che ti fanno ancora sanguinare è importantissimo che noi le cose che ci portiamo dietro e che ci hanno fatto male ce le diciamo dille almeno a te stesso se non hai trovato nessuno a cui confessarle se ci avessi un amico o un'amica un sacerdote una suora chi vuoi tu con cui potessi condividerle ti fare ti sarebbe già di molto aiuto non guarisci con quello è semplicemente una persona che condivide con te il tuo farbello ma non te lo può togliere chi ti guarisce è il nostro Signore però ti aiuta certamente un amico è un dono del Signore sei stata presa in giro per il tuo corpo e ti sei vergognata da piccolina e allora cerchi di passare in un osservata oppure sei divenuta schiavo dello sguardo altrui in una dimensione migliante una persona allora le classiche persone cioè gli atteggiamenti estremi sono sempre sintomatici di qualcosa che non va questo teniamolo sempre presente sempre quando c'è un atteggiamento estremo abnorme si può chiamare o da un lato o da un altro è sempre una spia che c'è qualcosa che non va allora se una persona è stata presa in giro per il corpo ha due fondamentalmente modalità di reazioni estreme e sbagliate evidentemente primo cerca di passare inosservata quindi sotto tutti i punti di vista si nasconde magari si veste scusate c'è una donna con il classico maglione che arriva fino ai piedi d'accordo che non sembra più un essere umano ma sembra un sacco di patate insomma no? quella è modesta è modesta è un po' troppo così no? oppure altro estremo dice si non è bello il mio corpo ma ti faccio vedere diete palestre chirurgia estetica e dopo di che tutto in bella mostra eccomi so brutta guarda un po' il contrario no? allora la prima sarà scariche di prese in giro perché è una soggetta quindi è una che la umilieranno in continuazione la prenderanno in giro in continuazione la seconda non posso dire i termini con cui viene epitetata ma li possiamo immaginare insomma verrà accostata a quelle povere sorelline che disgraziatamente speriamo non per scelta per costruzione fanno uno dei mestieri più antichi nel mondo e sarà dispregiativamente perché poi sì apparentemente tutti quanti che bella gli faranno i complimenti ma dietro e a volte neanche troppo dietro quando non glielo dicono glielo fanno capire che tu sei una di quelle insomma ma quella è una persona finita è una persona ferita non è una non è una di quelle è una persona ferita qualcuno ti ha messo le mani addosso certamente non un santo ti ha messo le mani addosso ti ha messo le mani addosso e ti senti sbagliata oppure sbagliato e sapete che succede senti sempre una macchia sulla sua pelle sto citando Don Fabio non me e ti rimane il dubbio assurdo che sei tu che hai provocato quella schifosa attenzione e così perdi vita questi sono pochi esempi ma questa è un'immagine l'emorragia di tante di tante altre ferite relazionali che toccano il mondo dell'affettività e della propria identità i luoghi dove si è tortuosi contraddittori impacciati pensiamo alle persone impacciate le persone timide difficoltà relazionali quella è una persona ferita sicuro 100% impauriti timidi bloccati sfuggenti delusi disperati oppure l'altro versante l'abbiamo già accennato immotivatamente aggressivi possessivi violenti invidiosi prepotenti consumati dal rancore perennemente incerti o perennemente allarmati e quindi perennemente in guerra fanno sempre qualcuno o qualcosa qualcuno da combattere o qualcosa per cui combattere se gli togli la guerra non campano più frenati o disgustati di sé questi sono tutti i luoghi dove si perde sangue dove la vita si svuota scrive Don Fabio e queste cose a chi le spieghi? a chi parlare dell'intimo rifiuto del tuo modo di essere? a chi raccontare che ti sembra sempre di essere sbagliato? puoi aver fatto degli errori in un modo o nell'altro e questi errori sono coltellate che ti sei date come vedremo quando affronteremo il capitolo di quello che hai fatto coltellate che ti sei dato quando hai fatto qualcosa di male quando noi facciamo qualcosa di male è come se noi prendessimo un coltello e ci accoltellassimo da soli il peccato questo è e quindi se tu ti accoltelli che succede ti fai una ferita e da lì esce sangue esce la vita esce la vita attenzione ma ci avete mai pensato che il nostro Signore ha versato il sangue e ci nutre del suo sangue che cos'è il sangue? è la vita io fino a quando si poteva fare adesso non si può fare più niente per diverso tempo anche qui in parrocchia con tanta gioia da parte di molti grazie alle possibilità anche del messare nuovo spesso davo la comunione sotto le due specie sapete che nella dottrina cattolica non c'è nessuna non c'è nessuna differenza sostanziale d'accordo? non è che la comunione sotto le due specie è più comunione di quella sotto una sola specie perché la presenza di Gesù per concomitanza è integrale in ciascuna delle specie in ciascuna parte di esse è un segno però quella di fare la comunione anche sotto la specie del sangue che ti ricorda che Gesù ha versato il sangue cioè ti ha dato la vita cioè mentre tu perdi la vita c'è le emorragie e le emorragie sono le coltellate che ti hanno dato gli altri e le coltellate che ti sei dato e quelle coltellate che ti hanno dato e che ti sei dato sono quelle che hanno dato a Gesù crocifisso prima che crocifissa Gesù flagellato a Gesù coronato di spine a Gesù mazzato di botte prima di morire e poi Gesù chiodato in croce quindi che si è preso che significa che si è preso di tutti i nati di peccati del mondo eccoli che si sono presi tutta la vita che tu ti togli o che ti hanno tolto ferendoti lui si era fatta togliere perché quella stessa vita lui il sangue suo era il sangue divino era il sangue divino eterna quella vita che usciva andasse a ridarti quella che tu hai perso questo è quello che ha fatto Gesù per noi riprendo quella frase infelice di tuo padre persone che il padre gli ha detto una cosa le ha ammazzate e se la ricordano per tutta la vita quella presa in giro subita una presa in giro coi fiocchi ti segna per tutta la vita quella volta che non ce l'hai fatta e sei stata una delusione e te l'hanno fatto notare che sei stata proprio una delusione non solo te l'hanno fatto notare te l'hanno fatto pesare che sei stata proprio una delusione quel terrore di essere escluso di non essere creduto di essere umiliata di essere scartato poi mille ansie ci possono possedere paure di tanti tipi oh qui c'è tutto quanto il capitolo lo avrò a prenderemo se gli vuole delle paure delle fobie cominciamo a chiederci tu di cosa c'hai paura anche le paure psicologiche la claustrofobia le vertigini la racnofobia chi c'è al terrore dei diragni tutto quanto queste cose qui che paure hai o insensibilità freddezze perori subiti o disattenzione ricevuti ci può essere qualcuno a cui resta tutto estraneo qualcuno che non si innamora che ha un cuore di ghiaccio non si innamora non si coinvolge non ha passione in senso buono perché convive con un i affettivo incarcerato dentro barriere di autodifesa per non essere ferito ancora che sono diventate una gambia e quello non campa quindi possiamo continuare in tutte le direzioni e fare centinaia di esempi lo dice anche Don Fabio qui cioè si può scrivere un libro soltanto raccogliendo come dire cronologicamente o meglio numericamente esemplificativamente tutte quante le possibili fonti di sofferenza che possono starci nella nostra vita non finiamo più non finiamo la ferita il sangue che si perde attenzione però questa è la storia di una donna all'equiferita viene sanata l'emorragista è una storia a lieto fine l'emorragia viene sanata da Gesù smetterà di perdere sangue non entriamo noi in questa battaglia anche in questa dinamica diciamo così di ingresso dentro noi stessi di scoperta di alcune ferite per perdere ma seguendo il sentiero di chi ha vissuto la guarigione questa donna conclude don Fabio è l'umanità siamo tutti noi che stiamo rovissi in maniera più o meno sanguinosa più o meno drammatica immediatamente o remotamente riconoscibile ma tutti siamo lei e come Gesù ha guarito lei così vuole e può guarire tutti noi alla sola condizione come fece questa donna che con grande fede riusciamo a toccare il suo mantello però prima che arriveremo a contatto con il mantello abbiamo ancora un bel cammino da percorrere con l'aiuto del Signore insieme ci vediamo se Dio vuole alla prossima puntata Dio vi benedica e la Madonna vi protegga e sia sempre tutto a gloria e lode di Lui solo a presto a presto